Ok, di nuovo online Eh, non so che è successo Ah, a sinistra, eccole qua Ok, finite i colpi Perfetto Andiamo a cercare di nuovo le munizioni Ok, vieni Ok Ok Dove sei Newton? Fate vedere Aspetta eh Oh Newton? Ci sei? Ok, come fate ad entrare? Io non mi parevo di farla online sta campagna qua Qua è facile Capito È boffole io dopo Io voglio farla per vedere perché non l'ho vista Ah, voglio, sono curioso Dopo a folle Oh no Oggi andiamo a facile Deve non siamo a farla a folle Perché non eravamo rimasti Oh però è Facile è facile Sì, sì, com'è Non ce l'ho ma è bello Lo conosco però Mi piace Ecco fatto Abbiamo resistito a quel cazzo di DB Di nuovo Lo sai che peggiorerà Gente, guardate quel che potete Ti arresto Andate avanti Io controllo la porta Perdi smalto Mai Ho passato i debiali Ho detto 5 o no È anche un graffio Ho tagliato Sì, sì, sì Sì, sì Così andrà bene Per me Eh no Copia digitale Ok, possiamo iniziare Mamma, hanno distrutto l'archivio Ho visto Abbiamo delle copie Dei dati, non dei Io sono Buono Eh Anch'io Eh Lezioni finite 5 Beh Adesso Ed io Facile Ragazzi Facile Ehi Levati di mezzo Sì Assolutali Perché vedi Non arrivano mai Non riescono a Nassi Ma tu l'hai finito La sala Non lasciare Ah ok No Sta un attimino Multiplay qua Questa Me lo ricordo Qua A folle No Non ho visto No perché I filmati Tra l'altro I filmati Di Di I filmati Di Descidio Io voglio B C'è Un attacco Quale? Il tre colpo? Eh Male Si No Retro lancer Arrivato Tu le hai Munizioni Non deve Infiantare Qualcuno Si Ehi, magari, eh. Ehi, quello era l'ultimo! Bel lavoro, giovane! Ondata! Vediamo quella folle! Oh, merda! Certo! Oh, cavolo! Mi aveva a trovare quel fabbricatore senza provocare G! Col barbone! Il fabbricatore non c'entra a nulla! No, no, non si è abbronzato! Qualunque cosa significhi! Avevo detto, non fatemi pentire di avervi accolti! Eh, sta caricando! Da quando ci... Caricamento, dice! Io salto... Ah, là! Oh! 8, 2, capitolo! Quale? Allora! Facciamo così! Io adesso in Twitch ce ne riavvio un'altra, perché devo cambiare il titolo, no? Così dopo mi ricordo! Eh sì, perché adesso stiamo giocando all'atto 2 e capitolo 1, no? atto 2, capitolo 1, no? Ma se ci è rifiuti, vi guardi sul fatto qua, fra la campagna... o poi prima... pitta la campagna...